Buonasera Presidente Berlusconi, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i giocatori del Monza, tutti i giocatori del Monza che sono qui alla fermata del Pulma. No, 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 no. Perché non le piace il genere? No, non mi piacciono. Ha altri gusti. Guardi che per i tipi come lei c'è anche l'autista.